Monsignor, perché il progetto missionario in cui la diocesi di Trento si è impegnata è importante per la vostra diocese? Intanto si mettono due chiese sorelle a comunicare tra di loro, il che è bello, no? Già questo. Poi, la nostra scuola professionale è una ricchezza, una ricchezza per la regione, ma non solo per la diocese, ma anche per la diocese, vengono molti bambini, ragazze perché sono adolescenti e noi offriamo a loro la possibilità di formarsi in un mestiere, ma anche li prepariamo per l'università se vogliono continuare. Sono molte famiglie che, sono anche famiglie povere, ma anche famiglie che vogliono assicurare un loro futuro. agli giovani, noi lo offriamo, a volte con molti sacrifici, però con molto amore e con molta dedizione. Perciò, per l'aiuto della diocese di Trento, a sostenere questa scuola, a sostenere anche la nostra carità, a sostenere la nostra diocese nel suo lavoro di aiuto e di forma di dare un'importanza perché intanto testimonia la carità di una chiesa personale, ma anche aiuta tante persone ad andare avanti l'eserro.